Un tavolo politico convocato con urgenza dal sindaco di Barletta Cascella appena due ore prima dell'inizio del Consiglio Comunale ha scongiurato la forte possibilità che andasse deserto. Infatti la verifica in corso da mesi tra i partiti di maggioranza che sta causando notevoli ritardi nell'azione dell'intera macchina amministrativa. Aveva subito la scorsa settimana una battuta d'arresto a causa del dissenso della buona politica sul riassetto delle deleghe proposte dagli altri partiti della maggioranza. Per tale motivo, sia pur senza una posizione ufficiale, molti consiglieri di centro-sinistra, alcuni giustificati, altri no, soprattutto nel PD, avevano preannunciato la propria assenza. Ma mandare deserto un Consiglio che tornava a riunirsi dopo molti mesi sarebbe stato un fatto politico di notevole gravità con le opposizioni che legittimamente protestano contro la sua sostanziale sparizione e i cittadini che assistono al teatrino della politica sempre più disaffezionati se non disgustati. Le immagini di repertorio di questo servizio si riferiscono infatti all'ultima seduta con i consiglieri in tenuta estiva. Il tavolo politica invece in extremis è evitato la rottura con la buona politica che ha accettato il riassetto delle deleghe purché venga salvaguardato il lavoro in cui svolto, che tradotto significa accettiamo a condizione di mantenere la delega alle manutenzioni. Mentre il sindaco, da parte sua, ha dato piena disponibilità a valutare gli assetti che il tavolo politico gli proporrà purché siano coerenti con i criteri di qualificazione e competenza che la coalizione sin dall'inizio si è data. Significa che comunque sarà casella dire l'ultima parola e tutto lascia pensare che difficilmente accetterà grandi stravolgimenti, soprattutto quelli in odore non di un'ottimizzazione e rilancio dell'azione politica amministrativa, ma tesi a soddisfare inestinguibili appetiti o a regolamenti di conti all'interno dei partiti. Ma questo lo si vedrà nei tavoli politici previsti oggi, tra le forze politiche di maggioranza, e domani tra i partiti e il sindaco. I tempi dovranno essere rapidi, visto che un nuovo Consiglio Comunale è stato convocato per la prossima settimana. Quello di ieri si è comunque svolto ed è servito ad approvare il piano comunale per il diritto allo studio per l'anno 2016 e le variazioni di bilancio, mentre tutti gli altri punti, visto il protrarsi della discussione, sono stati rinviati. Nel corso della seduta il dottor Giuseppe Losappio, consigliere comunale eletto con Forza Italia, si è dichiarato indipendente.